Mi chiamo Ricky Albertini. Sono un testimone chiave nel processo a Johnny Depp e Amber Herd. Chiamo da Los Angeles e ho un piccolo problema. La mia prima domanda è, se devo presentare una denuncia penale, devo venire in Tennessee per farlo? Il team Amber non si fermerà finché non avrà distrutto il team Deep. E sapete già che il team Deep è un osso duro. Ma una nuova telefonata alla polizia, con minacce scritte sopra, ha dimostrato che il team Amber è feroce. Un fan sfegatato di Amber è stato esposto al mondo per aver chiamato la polizia contro un grande sostenitore di Johnny Depp per essere intervenuto su uno dei due. Oh, non volevo chiamare il 911. C'è un numero non di emergenza che posso chiamare? Questo è un numero non di emergenza. Oh, ok. Spero che possiate aiutarmi. Mi chiamo Ricky Albertini. Secondo Richard, quel tizio dell'ombrellone lo ha minacciato e ha diffuso cattive recensioni su di me. La verità è che Richard ha minacciato l'ombrellaio e la sua famiglia. Sta alterando i testimoni in un caso di altissimo profilo, minacciando criminalmente le persone e facendo podcast che mettono in serio pericolo le persone. Inoltre, Amber e il suo team legale saranno molto probabilmente a conoscenza di quanto l'ombrellaio sia fedele a GD e quanto lui le sia ostile e per questo motivo potrebbero aver ordinato a Richard di fare del male a DP e, al suo team, il che includerebbe minacciare i suoi fedeli fan. Inoltre, l'audio trapelato indica che Richard voleva che la polizia pensasse che l'ombrellaio fosse un assiduo trasgressore della legge. Bene, lasciate che vi spieghi cosa sta succedendo. C'è un residente locale di nome Matthew Lewis. È anche conosciuto come l'ombrello. Posso sapere che questa potrebbe sembrare una telefonata scandalosa? E questo è lo stesso modo in cui Amber ha cercato di dipingerlo di nero, facendo credere alla gente che lui l'abbia maltrattata durante il loro tumultuoso matrimonio. I fan non sono riusciti a contenere la loro rabbia nei confronti dell'infinita ricerca di Amber di far crollare la profondità e il suo team. Forse ho la sensazione che l'autore della chiamata verrà rintracciato. Nel frattempo, continuate le vostre indagini concrete e a svelare la verità. Speriamo che l'Australia si occupi presto di questa donna, come ha commentato un altro fan. E sicuramente darei la caccia a quel perdente che, proprio come Amber Heard, non riesce a superare la perdita del processo. Hanno bisogno di ingoiare il rospo perché GD1 hashtag giustizia per Johnny De Pashtag sono d'accordo con il ragazzo. Dell'ombrello e con un altro fan che ha consigliato OMG, questo è ridicolo e pericoloso. È meglio ottenere una sorta di ordine restrittivo contro queste persone. Non possono lasciar perdere questa merda, ha perso. Superatelo. Tornate nel mondo reale e andate avanti con le vostre vite. Vediamo come andranno le cose per il team Ambe. Fino ad allora rimanete connessi a questo canale per saperne di più.